Poche ore alla sfida tanto attesa. Il Vittoria affronta a questa sera in amichevole il Catania di Vincenzo Montella. Più di 3.000 i biglietti già venduti, la prevendita è stata effettuata a Vittoria, Santa Croce, Marina di Ragusa e Catania. Ad acquistare i tagliandi sono stati tifosi di varie città del comprensorio. Non accadeva da anni che una squadra di Serie A calcasse il terreno di gioco del comunale e molti non vogliono farsi sfuggire l'occasione. Per l'allenatore Gaetano Lucenti la possibilità di vedere all'opera la sua squadra in una sfida alquanto impegnativa, con l'obiettivo di non sfigurare di fronte ad una compagine costruita per disputare uno tra i campionati più impegnativi del mondo. Una squadra che fino allo scorso anno vedeva nel suo organico Peppe Mascara, l'attaccante Comisano che proprio in rosso-azzurro ha costruito le sue migliori fortune, conquistando anche la maglia della nazionale. Mascara oggi veste la casacca del Napoli, è impegnato con la sua squadra e non sarà a Vittoria, ma i tifosi non hanno abbandonato la speranza di vederlo. Chi ci sarà invece è il vicepresidente Francesco Di Paola, che rappresenta il gruppo legato a Mascara e che sostiene l'impegno sportivo del Vittoria anche come sponsor. Il Vittoria nei giorni scorsi ha messo a segno altri colpi di mercato, su tutti l'arrivo di Valentino Conti ed il tesseramento di alcuni juniores, Juvara, Kinzi, il Camenurense Zeus e Romaric della Costa d'Avorio. Il Vittoria quest'anno avrà tre extracomunitari, c'è Daniel Menzà e ci sono i due ragazzi che è stato possibile inserire nell'organico perché per loro si tratta del primo tesseramento e questo consente di superare il limite di un solo straniero imposto alle società dilettantistiche. Oggi alcuni di loro saranno in campo. Per molti giocatori la sfida con il Catania rappresenta un'occasione quasi irripetibile, una data da imprimere nella storia.